Se qualcuno ti contatta dicendoti che un tuo familiare è nei guai e ti chiede soldi per risolvere il problema, attento, è quasi di certo un truffatore. Ti dirà di essere un avvocato o un agente in borghese. Non avere timore, tu chiama subito i carabinieri, quelli veri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Sei in auto, senti un toffo secco. Qualcuno dice che l'hai tamponato oppure un pedone dice che l'hai investito e ti chiede soldi come risarcimento. Attento, è una delle truffe più comuni. Non aver timore, in questi casi chiama i carabinieri. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Se alla tua porta suona qualcuno e ti mostra strani tesserini o documenti chiedendoti da entrare, non farlo entrare. Anzi, non aver timore e chiama i carabinieri. La tua sicurezza è il nostro mestiere.